bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo video io sono Iberia Lattis le inizioni vedrò e vi farò vedere sempre dei bug e poi a voi mi ha chiesto che dobbiamo migliorare l'audio oppure abbassare l'audio o dobbiamo riportare ed ecco qui in questo modo vediamo il bug eee 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 andrò a fare i bug vabbè l'ho fatto con un altro builder eee 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 ci vedremo nel prossimo bug eee 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 No dai! Time to get construct time in the lake! What are you looking for here? Help! Sì, sì.